Io volevo tornare in presenza però in questo modo con la divisione delle classi, noi alla fine stiamo tornando per 5 giorni a scuola al mese, quindi mi sembra un po' inutile riomentare tutti i casi per la fine 5 giorni in presenza con metà classe, quindi sarà comunque più complicato, chi è da casa non sentirà nulla, chi è in classe avrà tutte le domande e sarà super caricato. Comunque noi ci vediamo fuori dall'ambiente scolastico, quindi inutile, cioè alla fine come si crea il caos dentro la classe si crea fuori dalla scuola. È di sicuro di spiazza perché non siamo più abituati comunque a questa situazione e poi c'è la paura comunque perché è un primo giorno insomma in cui ci troviamo in questa situazione e vedremo come andrà, non sappiamo niente, soprattutto per le persone che rimarranno in didattica, che sarà più complicato a seguire per loro. C'è soltanto tanta paura. Penso che non ci siano le condizioni diciamo adatte per fare un rientro in sicurezza, infatti ci sono stati anche diversi scioperi, ad esempio venerdì abbiamo scioperato, però diciamo che non è servito molto evidentemente. Ho detto che tutto ciò che stiamo facendo è inutile, che si sta facendo il possibile per appunto tornare in maniera sicura, però sinceramente appunto non sono d'accordo.